I 5 Stelle si scatenano sui social dal blog di Grillo a Di Battista che twitta chi ha fatto da palo e non da commissario dovrebbe dimettersi fino a Fraccaro che sceglie l'ironia. Il presidente del PD Orfini e il suo segretario Renzi sono evidentemente troppo occupati a giocare ai videogiochi da non rendersi conto che il PD è diventato il referente politico della mafia a Roma. Il Movimento 5 Stelle è l'unica forza politica che può liberare Roma e il nostro paese dalla mafia.